La serranda del tabacchino squarciata all'interno del locale depredato di gratte e vince sigarette. Ancora un furto nella notte a Brindisi ai danni della tabaccheria situata in piazza Telemaco Signorini nel quartiere Sant'Elia di Brindisi. Nella notte i gnoti con tutta calma, nonostante la posizione del locale commerciale situato tra i portoni di due condomini, hanno praticato un buco nella serranda esterna del negozio e dopo aver forzato la porta d'entrata hanno razziato il tabacchino delle sigarette custodite al suo interno e dei gratta e vinci con il bottino che ancora è in corso di quantificazione. Ad accorgersi del furto la proprietaria della tabaccheria al momento dell'apertura mattutina, l'interno del negozio era nel più completo disordine. Ladri in azione nonostante la presenza di un allarme in vista e di una telecamera di videosorveglianza le cui immagini potrebbero essere valutate dalle forze dell'ordine. Sul posto infatti avvisati dalla titolare sono giunti gli agenti della sezione volanti della questura di Brindisi che ora indagano sull'accaduto per arrivare ai responsabili del furto.